Cari amici, in questi giorni, ma soprattutto ieri, c'è stata un'incredibile lunghissima sfilata di giornalisti, di medici e di politici che hanno fatto il mea culpa, hanno fatto pubblicamente il mea culpa e hanno detto scusate, sapete, ma abbiamo sbagliato a minimizzare questa epidemia. Eh sì, abbiamo sbagliato perché abbiamo detto che la banale influenza era molto più grave e abbiamo anche sbagliato a ridicolizzare, a ironizzare su quelle persone che in realtà invece erano molto più realistiche di noi. Bene, ora io direi che di questo tardivo mea culpa veramente non se ne fa niente nessuno, queste persone, il minimo, il minimo che dovrebbero fare è quello di dimettersi all'istante, ma soprattutto poi di sparire per sempre, possibilmente, per sempre. Perché queste persone, parlo dei giornalisti, dei politici maggiormente, ma anche dei medici, hanno contribuito a diffondere false notizie tra la popolazione e in questo modo hanno istigato la popolazione a sottovalutare il pericolo e a non prendere nessun tipo di precauzione e quindi in questo modo, diffondendo queste false informazioni, hanno favorito il moltiplicarsi dei contagi. Quindi sia chiaro a tutti, queste persone sono gravemente colpevoli. Ora io vi dico una cosa chiara e tonda, ok? C'è un'emergenza nazionale grave. Gli ospedali in certe zone sono al collasso, ci sono persone che stanno morendo in ospedale in questo momento ed altre persone che stanno lottando tra la vita e la morte. I loro familiari sono disperati perché oltretutto non possono neanche assisterli, non possono neanche essergli, stargli vicino in questo momento di grave sofferenza. Ci sono dei medici che si sono ammalati e anche dei familiari dei medici che si sono ammalati. Ora di fronte a tutto questo, chiunque si permetta di negare l'evidenza, chiunque neghi l'evidenza, chiunque continua a minimizzare questa cosa, chiunque dica che è tutta una montatura, che il coronavirus non esiste o chi continua a dire che l'influenza è molto peggio, bene, allora queste persone stiano lontani dai miei video e dal mio canale, non guardate i miei video, ok? Perché nessuno ve lo chiede, chiaro? Bene, e soprattutto astenetevi da fare commenti di questo tenore perché il ban, vi banno all'istante, queste persone d'ora in poi saranno bannate all'istante, chiaro? Bene, anche perché io poi non capisco una cosa, no? Ma se tu credi che gli asini volano, no? Se gli asini volano perché ti viene a vedere un mio video dove faccio vedere che gli asini non hanno le ali e brucano l'erba? E poi perché per di più commenti? E vabbè, io non ci credo perché voi non lo sapete, ma questo video è un fake perché in realtà gli asini hanno le ali, questo è il livello culturale di queste persone. Ripeto, in questo momento ci sono delle persone in terapia intensiva che stanno morendo e delle altre persone che invece stanno lottando tra la vita e la morte, ok? Poi invece ci sono delle altre persone che se ne stanno bene, no? Sono beati a casa loro e che se ne fottono altamente, se ne fregano altamente di questa situazione. Quindi questa è l'unica realtà che c'è oggi, eh? Quindi non c'è da fare i complottisti, questa è la pura verità. Ecco, questo è l'egoismo della nostra società. Detto questo, vi ricordo che questa emergenza riguarda tutti perché non ci sono soltanto tanti anziani, giustamente in apprensione, ma ci sono delle persone immunodepresse, ci sono delle persone che hanno altre patologie, ok? E poi vi ricordo che non è vero che sono solo anziani intubati, ci sono anche dei giovani che sono intubati, eh? E che se l'epidemia continuerà ad evolversi, si spanderà ancora, è ovvio che anche l'età di rischio si abbasserà. Follia, questa è pura follia e io vi confesso sono veramente molto stanco, ma sono anche arrabbiatissimo perché questa follia, questa stupidità alla fine mi tocca anche da vicino e mi sembra incredibile perché sono mesi e da fine gennaio che io mi sto occupando tutti i giorni del coronavirus, ho documentato, sono stato, non dico il primo, ma uno dei pochi che ha documentato quello che succedeva in Cina, che ho detto che ho avvisato del pericolo, ho detto che il virus era già presente in Italia e che se non ci fossero stati dei provvedimenti, se non ci fossero stati presi dei provvedimenti sarebbe scoppiato quello che poi è scoppiato, cioè io ho detto esattamente questo, ho detto che il virus era già presente in Italia, che il governo doveva prendere dei provvedimenti immediati e che se il governo non avesse preso questi provvedimenti sarebbe scoppiata un'epidemia, avrebbero fatto dei blocchi, chiuso delle città e avrebbero installato un regime di assenza di democrazia, sarebbe come una specie di dittatura. Ho detto esattamente questo, ho detto che avrebbero rimandato il referendum sul taglio dei parlamentari, avrebbero sospeso le elezioni e che nel frattempo, mentre la gente era distratta da questa epidemia, dal panico di questa epidemia, avrebbero firmato allegramente e tranquillamente la riforma del MES e chissà quante altre porcate. E non solo, ho anche avvisato dei problemi che tutto questo avrebbe causato all'economia, se ovviamente non si fossero presi per tempo dei provvedimenti, tra l'altro elementari, banali e scontati. Ora vorrei chiarire che io non sono certo un indovino, non sono un parente del mago Thelma e non sono nemmeno una fattucchiera. No, io semplicemente, essendo a conoscenza della situazione in Cina e dei provvedimenti che sono stati presi in Cina, me li ho confrontati con quello che non stava accadendo qui in Italia e con i provvedimenti che non venivano presi qui in Italia. Quindi ho semplicemente messo insieme dei dati, questa è matematica. Chiunque in possesso dei miei dati li avrebbe confrontati con logica e avrebbe ottenuto lo stesso risultato. E quindi se siamo in questa gravissima situazione dobbiamo ringraziare praticamente solo ed esclusivamente i nostri politici, da Conte a Speranza, da Zingaretti a Nardella. Perché? Perché quando il virus era già presente in Italia, quando l'epidemia si era già diffusa, quando stava per esplodere nei giorni in cui tutto questo stava per esplodere, cosa dicevano? Il coronavirus non c'è in Italia, state tranquilli. Tranquillizzavano la popolazione e quindi in un certo senso non la invitavano a fare la vita normale, quindi a non prenderne nessun tipo di precauzione. E non solo, dicevano semmai dovesse arrivare in Italia state tranquilli perché noi abbiamo uno dei migliori sistemi sanitari nazionali al mondo. E non solo. Invitavano a combattere il coronavirus a suon di aperitivi ravvicinati e a musei con tanto di biglietti omaggio per tutti, di biglietti aperti. Allora siamo la follia, questa è follia, no? E poi cosa hanno fatto? Beh, a un certo punto si sono resi conto, no? Che non avevano azzeccata neanche uno, che c'era un casino, hanno fatto un casino e la situazione era sfuggita di mano. Allora cosa hanno fatto? Hanno chiuso tutto, ma nemmeno hanno chiuso tutto. Cosa hanno fatto? Prima hanno chiuso la Lombardia, però prima di chiuderla l'hanno detto, così hanno fatto scappare migliaia di persone e così hanno trasferito il virus in tutta Italia, in tutte le regioni d'Italia. Dopo che avevano trasferito il virus, cosa hanno fatto? Allora a quel punto lì hanno chiuso tutto. Allora questa è follia, ripeto, questa è pura follia. Qui i casi sono due. O siamo in mano a dei pazzi, a dei folli completamente pazzi, ok? Oppure a degli incapaci cronici, ok? Perché qui parliamoci chiaro, c'è un presidente del consiglio che è un avvocato, c'è un ministro della salute che è laureato in economia e commercio e c'è il capo della protezione civile che è un commercialista, ok? Quindi sono persone altamente incapaci e impreparate, lo hanno dimostrato, fino ad adesso hanno fatto solo degli enormi danni, che se ne vadano immediatamente a casa, perché è ovvio che queste persone non possono far altro che continuare a fare danni. Però attenzione, cari amici, perché già i danni che hanno fatto sono gravissimi, gravissimi, ma se continuano questi danni diventeranno irreparabili, perché il problema vero è che i nostri politici parlano e continuano a parlare, mentre invece dovrebbero tacere, stare zitti. Ma prendiamo Zingaretti, no? Che istigava, invitava le persone a contagiarsi a vicenda, no? E che per questo, come altri, dovrebbe essere perseguito, indagato e anche punito, chiaro? Zingaretti che ha contratto il coronavirus e che chissà quante persone ha infettato. Zingaretti, no? Che rideva, rideva, diceva, stiamo esagerando, l'influenza fa molti più morti, rideva, si prendeva gioco del coronavirus, no? Oggi Zingaretti ha cambiato idea, adesso è preoccupato Zingaretti, fa l'allarmista, bisogna stare tutti a casa, allora, questi politici dovrebbero tacere per legge, dovrebbero starsene zitti, visto che vergognarsi da soli, non si vergognano, non sono capaci a vergognarsi, no? Non sono capaci da soli, bisognerebbe farlo per legge, basta, d'ora in poi i politici, finché non è finita sta crisi, se ne stanno zitti, questo si dovrebbe fare. E invece sapete cos'è successo? Che mentre i politici sono liberi, no? Di continuare a fare dei danni irreparabili, no? A dire tutte le scemenze che gli vengono per la testa, sono liberi di farlo, ecco invece dopo l'intervista che ho realizzato ad un operatore ospedaliero del Nord Italia, ebbene è arrivato da bella circolare che ha tappato la bocca a tutti gli operatori ospedalieri. Informativa per unità operative coronavirus, comunicazione esterna, da unità di crisi Covid 2019, 10 marzo 2020, ore 17 e 30. Gentilissimi, in relazione all'emergenza Covid-19 che sta coinvolgendo tutte le strutture sanitarie della Lombardia, si ricorda per conto della direzione aziendale e con precisa indicazione di Regione Lombardia, che è assolutamente vietato ai dipendenti ed ai collaboratori di questa azienda, rilasciare dichiarazioni, interventi o interviste sul tema della emergenza in atto, se non preventivamente autorizzati. In questi giorni avete potuto tutti vedere ed ascoltare sui social interventi di vario tenore che non contribuiscono ad una informazione chiara e corretta. Si auspica pertanto di porre la massima attenzione a qualunque comunicazione legata all'emergenza in atto, considerata l'elevata velocità di diffusione e l'altrettanto elevata possibilità di mala interpretazione dei messaggi, soprattutto se provenienti da personale sanitario direttamente coinvolto. Certo della consueta collaborazione, cordialità, il presidente dell'unità di crisi Covid-19, dottor Camillo Rossi. Capito? Avevo predetto anche questo, ovvero che avrebbero censurato l'informazione, che avrebbero vietato di informare. Però adesso basta con le previsioni e chiariamo un attimino le cose. Allora, il coronavirus è pericoloso e siamo di fronte ad un problema grave, molto grave, che ci riguarda tutti quanti, ok? Però se ce ne restiamo in casa per almeno 15 giorni, prendiamo le precauzioni e soprattutto evitiamo di incontrare le altre persone, anche i nostri familiari. Faccio un esempio banale, ma non portate i nipotini dai nonni, non andate dai nipotini, perché vi potete contagiare a vicenda. È assurdo, non lo fate. Bene, se tutti quanti ci comportiamo bene, ne usciamo. Se invece ci sono persone che dicono chi se ne frega, chi tocca tocca, tanto è un'influenza, eccetera, o che minimizzano, addirittura dicono che non esiste questo virus, bene, allora queste persone continueranno ad andarsene in giro allegramente, porteranno il virus dovunque, bene, e allora, se questo dovesse accadere, bene, allora sì che sarà veramente una catastrofe. Perché qui le persone non hanno mica ancora capito la gravità della situazione. Io oggi sono uscito per fare la spesa a Roma e mi sono spaventato. C'erano le code di persone ammucchiate fuori dai supermercati, uno vicino all'altro, la maggior parte senza le mascherine, se ne fregano allegramente, all'interno dei negozi. Ci sono le persone senza mascherina che ridono, scherzano, parlano col cellulare a voce alta, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, lo sapete come si diffonde questo virus? A parte quel contatto, quindi se uno tocca qualcosa di infetto e poi si porta le mani alla bocca, si diffonde attraverso le particelle di saliva. Se una persona infetta tossisce o starnutisce davanti a noi, il virus si lega a queste particelle di saliva nell'aria e arriva in bocca o nel naso, ok? Ma queste particelle di saliva noi le mettiamo mica solo quando starnutiamo o tossiamo, anche quando parliamo, quando ridiamo, quando urliamo, quando respiriamo con la bocca aperta, ok? E sulla base di questo i giornalisti televisivi sono folli, perché io li vedo che intervistano magari anche in luoghi pericolosi, anche personali, che magari è ospedaliero che è appena sceso da un'ambulanza trasportando uno con il coronavirus e questi vanno lì col microfono, lo passano a loro e poi se lo ripassano alla bocca e così si respirano il coronavirus. Cioè questo è veramente essere... non so neanche come definirlo, io non lo farei, poi facciano quello che gli pare, che gli piace. Però una cosa importante ve la devo dire, mettetevi la mascherina, mettetevi la mascherina sempre, soprattutto se dovete andare nei luoghi a contatto vicino ad altre persone e dei luoghi chiusi, ok? È importante, la mascherina dovrebbe essere obbligatoria per tutti sempre fuori di casa, ok? Soprattutto per esempio, faccio un esempio banale, nei supermercati, perché se una persona infetta se ne va a far la spesa e starnutisce, tossisce o parla, ride, scherza mentre va in giro per il supermercato, queste goccioline di saliva sul virus è ovvio che si depositano sui prodotti esposti. Ora però la situazione è grave, ma non dobbiamo assolutamente farci prendere dal panico, io non conosco mai la situazione del coronavirus molto bene, ma non ho nessuna paura, ok? Questo perché? Perché come abbiamo visto, nella maggior parte delle persone il coronavirus non fa assolutamente niente, nell'80% delle persone il coronavirus non fa niente, però per il 15-20% può portare delle complicazioni anche molto gravi, quindi è possibile in generale che magari io mi prendo il coronavirus e non me ne accorgo nemmeno, non mi fa niente, ok? Però io se lo contraggo posso infettare altre persone, ok? Questo è il punto. Quindi per questo è importante indossare la mascherina e stiamoci a casa, in questo periodo, se noi rispettiamo queste regole di igiene, mettiamo la mascherina in altri luoghi e restiamo il più possibile dentro casa, allora noi in un mese, al massimo due mesi, supereremo questa situazione, sarà finita, ok? Questo è importante. Perché vi dico mettetevi la mascherina? Mettetevi la mascherina! Perché qual è il problema? Cari amici, è inutile che ci giriamo intorno, l'epidemia ormai è in atto in tutta Italia, questo vuol dire che ci sono migliaia, se non decine di migliaia di persone contagiate, quindi infette, ok? Però come abbiamo visto, la maggior parte di queste persone non se ne accorgono, perché circa l'80% delle persone non ha sintomi o ha sintomi lievissimi e quindi se loro non lo sanno cosa fanno? Se ne vanno in giro e se tutte queste persone contagiate, contagiose se ne vanno in giro senza mascherina, sarà una catastrofe ed è proprio per questo motivo che il governo dovrebbe imporre per legge le mascherine obbligatorie per tutti quando si è fuori di casa. Questo ha fatto il governo cinese e non solo il governo cinese ha fornito a tutti i cittadini le mascherine, cosa che dovrebbe fare anche il nostro governo ladro, che invece, guarda caso, chissà come mai, se ne frega di questa cosa. In Cina hanno debellato il virus o almeno lo stanno debellando, hanno avuto degli ottimi risultati e cosa hanno fatto? Hanno imposto le mascherine a tutti, mentre invece qui in Italia siamo in mano dei pazzi, a dei pazzi e gli stessi medici sono pazzi, perché gli stessi medici che ci dicono le mascherine non servono a niente, non servono a niente, però dicono servono per gli infetti, però dicono se una persona infetta la deve mettere la mascherina, però serve solo per le persone infette. Ora ditemi voi, ma se abbiamo migliaia di persone infette che non lo sanno, allora queste persone se danno retta a questi medici pazzi, ripeto pazzi, cosa pensano? Dicono vabbè io non lo sanno, quindi io non sono infetto, non devo mettere la mascherina. Chiaro? Quindi di conseguenza avremo degli infetti contagiosi che se ne vanno in giro senza mascherina a contagiare altre persone perché seguono i consigli di questi medici che non usano la logica perché si contraddicono da soli, da una parte dicono che devono usarla solo gli infetti, non servono a niente, però dall'altra dicono che gli infetti dovrebbero usarla e siccome ci sono un sacco di persone infette in giro per l'Italia, tutti devono mettere la mascherina. Mettetevi la mascherina, datemi retta. Cari amici vi assicuro che sono arrabbiatissimo, vabbè lo vedrete per quello che è accaduto e per quello che sta accadendo con colpa grave dei nostri governanti, ok? Sono arrabbiatissimo, però adesso abbiamo un'emergenza, siamo di fronte a un problema, ormai c'è questa emergenza, quindi dobbiamo concentrarci su questo problema e cercare di risolverlo, di affrontarlo e risolverlo. Quindi restiamo a casa, ok? Se uscite usate la mascherina, lavatevi spesso le mani, evitate tassativamente di portare le mani alla bocca, al naso o anche agli occhi o alle orecchie, ok? Evitate di fare questo e non incontratevi con altre persone, né con gli amici né con i parenti, non lo fate, ok? Questo è veramente fondamentale. Poi, una volta che si sarà risolto il problema, dopo che sarà passata la nottata, beh è ovvio, questo è ovvio, che qualcuno dovrà pagare il conto e io mi auguro veramente di cuore, per il mio amato paese e per tutti i miei connazionali, che il prezzo da pagare alla fine non sia troppo alto. Un saluto dal vostro Matteo De Micheli e vi ricordo che questo canale si sostiene solo grazie alle vostre donazioni. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo servizio. Grazie.